Ti mostrerò ora come è possibile andare a caricare i dati di tipo sia vettoriale che di tipo raster. Comunque ci ritorneremo su questo aspetto all'interno del corso quando andremo a trattare proprio dell'editing vettoriale della creazione dei vettori ma anche della georeferenziazione dei raster. Dunque puoi utilizzare praticamente due strade o utilizzare questo che è il browser panel che io per comunità preferisco avere in questo modo con due tab che compaiono. Quindi ti vai a scegliere quella che è la cartella in cui è presente il dato oppure puoi praticamente utilizzare l'open data source manager o la combinazione di tasti ctrl più l e quindi per quel che riguarda i vettori andare a scegliere appunto il tipo di vettore e ricercare all'interno di una cartella ad esempio prendiamone uno al caso, prendo questo, poi basta cliccare su add e il dato viene automaticamente caricato. Una volta che abbiamo caricato il dato possiamo vedere che viene importato anche quello che è il sistema di riferimento e parleremo di sistemi di riferimento nella sezione apposita. Ti basta però notare che nel momento in cui abbiamo finalmente un dato caricato qui nella TOC e visibile nel canvas possiamo andare a effettuare ad esempio delle misurazioni con lo strumento di misurazione che è uno strumento di misurazione rapida in cui ad esempio se voglio conoscere questa distanza basta che appunto disegno in maniera molto molto rapida questa linea e so che questo primo tratto che ho disegnato è circa 8 km e 100, questo ulteriore tratto che è qui in pendenza che se faccio doppio clic mi crea un ulteriore vertice quindi posso continuare finché poi non clicco con il destro mi dice appunto quelle che sono le dimensioni quindi le distanze di queste lunghezze di questi tratti che ho disegnato più la lunghezza totale in metri, chilometri, piedi, yard eccetera eccetera se io volessi invece andare a conoscere ad esempio una misura relativa all'area scelgo questo ulteriore elemento e disegno un poligono dell'area di mio interesse e ho appunto restituito l'estensione in questo caso in metri quadri ma posso scegliere ad esempio chilometri quadri oppure ettari e altre unità di misura che più mi fanno comodo in più posso anche conoscere quella che è la distanza angolare tra due punti ad esempio se io volessi conoscere la distanza tra questo punto qua e quello in cui è presente la crocetta mi basta semplicemente fare in questo modo e cambia come si vede appunto l'angolo cliccando proprio con il destro si blocca l'angolo e ho creato un angolo di 70 gradi circa può essere comodo questo tipo di strumento ad esempio per le misurazioni di rotte sia aeree che navali dunque questo è quel che riguarda le misurazioni andiamo a caricare un dato raster di esempio sempre per continuare nella nostra specifica degli esempi e vediamo un po' cosa posso andare a scegliere ad esempio questo qui mi è stato creato, caricato, pardon, il dato vettoriale potevo anche fare uno zoom to layer per ottenere direttamente questo dato e in questo caso ho caricato il raster delle pendenze dell'area a sud di Graniano quindi è molto molto semplice ed elementare andare a caricare i dati cartografici in ambito GIS e soprattutto in QGIS da notare che si è attivata la barra di scala poiché in precedenza io sono andato in view, decoration e in scale bar ho attivato la spunta enable scale bar se la disattivo si va a disattivare la barra di scala grazie